Sessant'anni dalla fondazione del Servizio Aereo dei Carabinieri, sono una storia straordinaria, entusiasmante, fatta del sacrificio, del coraggio, dell'audacia e della professionalità di tanti noi specializzati. L'arma continuerà a puntare con decisione alla mobilità della terza dimensione, è stato avviato un piano di rinnovamento delle linee di volo che porterà nel prossimo decennio alla graduale emissione di oltre 50 aeromobili di ultima generazione. I primi tre elicotteri di questo piano sono già in servizio e sono la V139 e il 9AV169. Forte di questa tradizione il rincorpamento aeromobili continuerà a profondere ogni energia per garantire meglio il servizio, ripagando con la responsabilità dei suoi carabinieri la fiducia che la società e l'istituzione accordano all'arma. Abbiamo da poco iniziato una serie di servizi nelle grandi aree metropolitane per i controlli straordinari di servizio del territorio e l'elicottero certamente rappresenta un plus di osservazione e di prevenzione perché ha un cono di osservazione estremamente ampio ed è molto versatile nei servizi istituzionali. Grazie.